Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale In un quartiere di Fano segnalate persone sospette e strani segni sui campanelli di casa, cresce la preoccupazione tra i residenti Ogni giorno circa 35.000 persone entrano ed escono dalla città di Fano e più del 70% lo fa con mezzi propri Sono i dati diffusi oggi sulla mobilità urbana Stefano Guzzi si candida ufficialmente a sindaco di Colli al Metauro, duro attacco agli ex sulla sanità e subito la nomina di tre prosindaci Nelle campagne fanesi fatto brillare dagli artificieri un altro ordigno della seconda guerra mondiale Martedì torna il maltempo, attenzione a vento forte e pioggia Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione locale sul canale 17 di Fano TV Cominciamo subito dalla segnalazione che è arrivata da alcuni residenti di via Bocca Trabaria a Fano Residenti che ci hanno segnalato come alcune persone sospette si aggiravano nel quartiere e soprattutto a preoccupare i residenti alcuni segni lasciati sui campanelli di casa I residenti di via Bocca Trabaria a Fano stanno vivendo momenti di apprensione per aver notato alcune presenze sospette che si aggirano nei vialetti della struttura residenziale alle spalle del Palazzo di Vetro sede degli ambulatori della USL Gli avvistamenti riguardano diverse persone, giovani e meno giovani ed in particolare a mettere un po' tutti sul chi va là in particolar modo quella di due giovani donne che chiedono informazioni su appartamenti da affittare Questo piccolo insediamento è un po' come una piccola comunità chiusa ci si conosce tutti e tutti conoscono le abitudini degli altri e le frequentazioni Una presenza estranea così balza subito agli occhi Come si è introdotta nel suo appartamento? Si è introdotta con il dire perché era la figlia di una signora che io la conoscevo bene Ma in realtà non era lei? No, perché io la conoscevo la figlia di questa signora ma non era questa però io ho detto cambiamo tutti, non lo so e con questo mio marito la voleva mandare per sapere chi è che ha la casa libera qualcosa dal amministratore e invece guardava a passare il tempo così stava quella In casa? In casa Diverse abitazioni di questo stabile con oltre 30 unità abitative sono state già visitate dai ladri sia con gente dentro casa che senza nessuno all'interno e per questo tutti sono ancora molto scossi soprattutto gli anziani e soprattutto dopo la comparsa di strani segni sui campanelli che prima non c'erano Sabato mattina in corrispondenza di alcuni nominativi sui campanelli abbiamo trovato delle crocette a forma di X in particolare in corrispondenza dei nominativi delle persone più anziane in altre scale invece in alcune c'è un cerchietto in altre ci sono delle croci ma questi simboli che non avevamo mai notato prima per cui la cosa ci ha preoccupati questa mattina abbiamo chiamato il commissariato e abbiamo chiesto la vostra presenza proprio per far capire che ci siamo accorti di questo che siamo molto attenti Se ne conoscono oltre una ventina e servivano a dare indicazioni alla squadra che poi si introduceva nell'appartamento e venivano messi da segnalatori che passavano prima è un modus operanti un po' desueto che ultimamente non si riscontrava più ma hai visto mai che nei paraggi si sta girando qualche clan vecchia scuola e non lo abbia rispolverato? Il sabato all'uno e mezzo un ragazzo con il giubbotto nero e anche i pantaloni neri abbastanza alto comunque controllava bene bene la via vedendomi lui si è accorto che io lo controllavo è tornato indietro, è arrivato alla prima villetta ha fatto finta di aprire i contatori dell'acqua di controllare allora io gli ho urlato guarda i carabinieri li ho già chiamati di corsa è andato nella strada nazionale e è fuggito però io sto sempre attento dalla finestra di là e di qua anche alla sera prima di andare a letto non si sta tranquillo? no, ultimamente no e dunque come avete sentito vale l'appello sempre e soprattutto a controllare a tenere sotto controllo la via dare un'occhiata al posto di guardare il cellulare magari guardarsi un po' meglio attorno e se c'è qualcosa chiamate comunque segnalate alle forze dell'ordine 113, 112 questi sono i numeri da comporre adesso andiamo invece al vallato dove purtroppo non c'è niente di nuovo come vediamo dalle segnalazioni al 338 49 68 250 parliamo di atti di vandalismo se vogliamo comunque foto che dimostrano come in questa area sono state buttate via praticamente di tutto bottiglie rotte, residui di cibo, un falò, i resti di un falò forse è stato eseguito un barbecue non si sa insomma questa è la zona del quartiere vallato a due passi dall'ex campo d'aviazione di Fano la Fano che verrà invece la Fano dei prossimi 30 anni tante idee, tante idee espresse da tantissima gente a Orizzonti Fano di questo ne parleremo tra poco intanto questa mattina l'ufficio mobilità ha pubblicato ha fatto sapere i dati sulla mobilità urbana e guardate che cosa è emerso sono ben 35 mila le persone che giornalmente entrano ed escono da Fano per pendolarismo dovuto per l'80% a lavoro e per il 20% a causa di studio e la maggior parte, soprattutto i lavoratori, si muove con mezzi propri ben su 76 persone munite di patente 100 utilizzano la propria auto contro 71 di Pesaro e 70 di Senigallia 17 mila sono quelle in uscita e 17.500 sono quelle in entrata con un saldo sostanzialmente in parità la maggior parte, 6.287 persone migra verso il capoluogo percorrendo anche 50 chilometri ed impegnando fino ad un'ora chi invece entra a Fano percorre al massimo 30 chilometri e in appena mezz'ora durante la presentazione dei dati sulla mobilità urbana presentati questa mattina per Orizzonte Fano oltre ai notevoli flussi di mobilità oltre 35 mila persone al giorno un altro dato balza gli occhi Fano è una città di automobilisti vuoi per i ritmi di vita che mal si conciliano con i tempi e le disponibilità dei mezzi pubblici vuoi anche per una questione di infrastrutture piste ciclabili, più automezzi a disposizione strade migliori e collegamenti più rapidi in effetti questa è la direttrice più significativa e quindi oltre a tutto bisognerà anche valutare il rafforzamento infrastrutturale tra Fano e Pesaro perché è un flusso notevole segno di questa notevole mole di mezzi in circolazione sono anche i dati al 2015 che riguardano l'incidentalità nella città di Fano nel 2012 sono avvenuti 4,9 incidenti ogni mille abitanti, meglio di Senigallia e Pesaro cifre che però su scala provinciale e regionale sono peggiori a Fano capitano più incidenti ci sono più veicoli e molti meno bus su 10 incidenti 8 avvengono in area urbana gli incidenti rilevati dalla polizia urbana nel 2015 nelle ore diurne sono stati 252 e hanno causato 231 feriti e 2 morti dall'analisi geografica degli incidenti risulta che le strade più pericolose sono via Flaminia 71 feriti l'Adriatica Nord e Sud con oltre 80 feriti e le strade urbane con 28 via Roma e via Gramsci le più pericolose per i ciclisti Buozzi, Gabrielli e Pertini per i pedoni Il grande intervento che c'è stato in quest'ultimo periodo sulla manutenzione stradale la separazione, l'indicazione delle ciclabili ma anche quello che dobbiamo fare in progetto cioè individuare un miglioramento di tutte le reti della mobilità è estremamente importante per la qualità della vita tenendo conto che un ruolo importante deve essere sempre dato alla mobilità dolce a quella pedonale, a quella ciclabile magari anche ribaltando il punto di vista verso il pedone piuttosto che verso l'automobilista Allora 150 persone si sono presentate sabato mattina puntuale alle 9 all'ex chiesa di Sant'Arcangelo per partecipare al foro urbano ve ne abbiamo parlato abbondantemente nelle settimane scorse vedete la fotografia ebbene si sono registrate per avere poi l'attestato di partecipazione questo badge adesivo eccetera eccetera insomma si sono presentati dicevo tanti fanesi disoccupati, studenti, pensionati, dipendenti pubblici ingegneri, commercialisti, insegnanti, architetti l'età media dei 50 anni sostenuti durante le riunioni tematiche da sei facilitatori la mattinata è iniziata appunto con il saluto del sindaco Massimo Seri che attualmente si trova ancora negli Stati Uniti per partecipare ad una maratona città multiculturale innovazione tecnologica partecipazione e tecnologie ma anche riqualificazione e rigenerazione urbana così come adeguamento antisismico degli edifici pubblici orari delle città sono alcuni dei temi cari ai fanesi e che sono stati presentati in questo appuntamento così importante che appunto aveva il nome il titolo di Orizzonte Fano la città di Fano del 2030 e con quasi un mese di anticipo sono stati presentati i lavori per la fine della messa in sicurezza adeguamento sismico del campanile del santuario di Madonna Ponte a Fano in località Ponte Metauro i lavori hanno interessato la parte superiore del campanile con la bonifica del calcestruzzo e il rafforzamento del paramento murario con una intalaiatura in acciaio Stefano Guzzi si candida alle prossime elezioni amministrative di Colli al Metauro l'ex sindaco di Fano ha detto che a Montemaggiore è stata compiuta un'ingiustizia nei confronti di coloro che hanno votato no al referendum ha poi annunciato che nei tre ex comuni di Saltara, Serungarina e Montemaggiore verranno nominati tre prosindaco tre prosindaci e che aderirà al patto di piagge quello sulla sanità che tende a salvaguardare o meglio a salvaguardare l'ospedale Santa Croce e gli ospedali dell'entroterra e poi ha anche annunciato che a Fano al suo posto in consiglio comunale entrerà Luca Serfilippi la mia candidatura qui non vuole essere dicevo prima divisiva ma vuole unire quindi non è una candidatura di centrodestra come non è una candidatura di centrosinistra è assolutamente un civismo diffuso nella mia lista che ancora non sarà presentata la stiamo predisponendo ci saranno persone che appartengono ad ogni parte politica ma soprattutto ci saranno persone che non sono abbezze al fare politica ma che vivono in questo territorio molti giovani che vogliono bene a questa comunità e che sperano di vederla crescere in armonia e in sviluppo per il futuro quindi alcuni amici hanno pensato a questo mio coinvolgimento qualche mese fa vista loro dicono la mia esperienza la vicinanza comunque a questo territorio anche di dove io vivo e il fatto di non appartenere appunto a nessuno di queste specificità che prima ho elencato questa cosa mi ha nell'immediatezza fatto piacere ma mi ha anche lasciato un po' dubbioso su questa opportunità poi frequentando le persone di queste comunità incontrandole girando il territorio ho notato che effettivamente questa era un'iniziativa che veniva vista con piacere da tanti non pretendo certo da tutti oltretutto mi hanno colpito anche le motivazioni effettivamente qui c'è stata una situazione soprattutto nei confronti dei cittadini che hanno votato no a Montemaggiore in gran parte con grande maggioranza ecco non si è tenuto conto per nulla di quel voto ecco è stata secondo me una grande ingiustizia lì c'è anche un percorso giuridico c'è un ricorso massimo rispetto da parte mia verso i cittadini che portano avanti quel percorso sperando che possano avere le loro tra virgolette soddisfazioni questo non può dipendere direttamente né da me né dalla politica sono due percorsi sicuramente separati conseguentemente io appena mi insedirò da sindaco creerò lo statuto comunale che preveda le municipalità cioè i consigli quelli che nelle città più grandi un tempo si chiamavano consigli di quartiere dove ci sia un prosindaco per ogni comunità uno a Saltara uno a Serungarina uno a Montemaggiore del Metauro che abbia anche delle possibilità di intervenire dando gli indirizzi all'amministrazione comunale giudicando anche i progetti che si portano avanti anche perché no dei piccoli budget finanziari per portare avanti in autonomia delle singole iniziative legate alle singole comunità un'altra cosa che ho notato fortemente in questi anni e soprattutto in questi ultimi mesi è la completa assenza dei sindaci che hanno governato queste tre comunità sui temi fondamentali come la sanità mentre si faceva una battaglia a Fano in molti altri comuni per difendere gli ospedali sul territorio e i servizi sanitari sul territorio qui c'è stata la completa assenza dei tre sindaci che hanno governato nell'ultima fase i comuni che hanno dato vita a Coglie al Metauro questa è una lacuna molto grave che va assolutamente colmata loro hanno preferito diciamo così andare incontro alle esigenze del loro partito provinciale rispetto a quelle dei loro cittadini io credo che invece occorra assolutamente correggere questa strada appena mi insedierò da sindaco aderirò indubbiamente al patto di piagge che insieme ad altri sindaci vuol fare in modo che sia salvaguardata la sanità complessiva su tutto il territorio a seguito della sua candidatura Stefano Aguzzi lascerà il suo posto nel consiglio comunale tra gli scranni nella sua posizione troverà posto il giovane Luca Serfilippi già assessore allo sport nella sua amministrazione comunale la politica fanese io la seguo da tantissimi anni ho fatto il sindaco dieci anni ma anche molti anni prima ho avuto ruoli anche importanti però devo dire la verità io l'ho sempre alternata ad altre fasi della vita cioè ho fatto per nove anni dal 90 al 99 prima l'assessore poi il presidente Aset poi sono tornato e sono andato a lavorare per quattro anni in fabbrica mi sono candidato da sindaco ho fatto il sindaco ho finito di fare il sindaco sono tre anni che insieme a mio figlio ho sistemato una piccola azienda agricola quella che era del mio povero papà e ho portato avanti il lavoro da coltivatore diretto ecco non ho problemi sotto questo punto di vista Fano è ovviamente la mia città che amo ma credo di aver già dato molto a quella città di impegno ovviamente non ho presunzione di aver fatto tutto bene e penso che ci possono essere altre persone anche più giovani di me in questo caso che possono dare altrettanto quindi anche il mio posto in consiglio comunale sarà preso da un giovane consigliere comunale che è stato con me assessore per tre anni e che potrà dare molto alla città di Fano e al territorio perché no collaborare anche il comune di Coglio al Metauro perché la collaborazione tra una città che io conosco bene come Fano e una comunità importante come sarà quella di Coglio al Metauro può essere molto proficua per entrambe le realtà torna il maltempo per la giornata di martedì infatti sono previsti rovescio temporale diffusi anche di forte intensità nevicata abbondanti oltre i mille metri venti forti nord orientali e mare agitato tutto questo a causa dell'ingresso di una saccatura nel terreno e la formazione di una struttura anticiclonica che porterà un peggioramento del tempo con rovescio temporale venti forti settentrionali mare agitato nevicate oltre i 900 metri da mercoledì però tornerà il bel tempo con temperature primaverili e dopo la bomba a Cerbara di San Costanzo sabato gli artificieri hanno fatto brillare un ordigno della seconda guerra mondiale ritrovato a Ronco-Sambaccio nelle campagne fanesi Bomba Day a Ronco-Sambaccio un'altra giornata vissuta dai residenti come i loro precedenti di San Costanzo passata come da copione tutto si è svolto come era stato predisposto dalla prefettura di Peso Urbino in concerto con il comune di Fano e le forze dell'ordine la professionalità rodata del corpo degli artificieri dell'esercito di Castel Maggiore ha consentito l'esecuzione delle operazioni in totale sicurezza e in tempi ancora più rapidi rispetto a quelli previsti sicuramente il ringraziamento va anche per la pazienza ovviamente ai residenti di Rocco-Sambaccio che ultimamente sono anche abituati a dover assistere a queste rimozioni e brillamento di ordini bellici e quindi anche a loro va il ringraziamento per la pazienza che hanno avuto e anche perché si sono organizzati da soli senza nessun problema così alle 13.25 la bomba d'aereo da oltre 100 chili è stata fatta brillare una volta che è stata sotterrata oltre 7 metri nella cava Pensierini 178 persone evacuate in un raggio di 1200 metri dalla cratere dell'Ordigno alle 8 di mattina hanno autonomamente abbandonato le loro abitazioni per farvi ritorno alle 11.30 le operazioni di bonifica si sono svolte prima attraverso il despolettamento dell'Ordigno a cura degli artificieri del reggimento di Bologna dopodiché si è passati al caricamento della bomba resa inerte e trasportata presso la cava Pensierini di Fano dove è stata successivamente brillata e quindi si sono concluse le operazioni relative a questa bonifica Attenzione 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 di telemedicina istituito da Aset Holding nella farmacia del quartiere è operativo dall'inizio dell'autunno scorso e si avvale dell'ospedale Incra di Ancona chiunque può richiedere almeno uno fra gli esami previsti da tre diverse tipologie di prestazioni in particolare fra i grandi gruppi sociali un forte interesse è manifestato dagli sportivi amatoriali trovano un percorso di estrema rapidità per ottenere infatti il certificato di sana e robusta costituzione i referti sono teleconsultabili utilizzando la piattaforma elettronica telemidware che fornisce le parole chiave d'accesso ai clienti della farmacia nel caso del pacchetto cardiologia e ipertensione invece gli esiti degli esami sono comunicati dai professionisti anconetani dell'Incra e adesso invece la linea va a Matteo Del Vecchio per lo sport grazie Marco la copertina di questa sera è come sempre dedicata al calcio e non potrebbe essere altrimenti visto il forte segnale che l'Alma Juventus Fano ha lanciato al campionato di Lega Pro andando a vincere ieri ad Ancona e riaprendo di fatto i giochi per quanto riguarda il discorso salvezza era da più di 30 anni che il Fano non riusciva ad espugnare il campo dell'Ancona e lo ha fatto forse nella serata più importante della sua storia recente una vittoria che oltre a far gioire gli oltre 200 tifosi giunti al seguito per sostenere la squadra riaccende la speranza della salvezza per i Granata che ora credono più che mai nell'impresa il 2 a 0 firmato da Zullo in cui si vede la mano del tecnico Cuttone abile a tirare fuori il meglio dai suoi e coraggioso in alcune scelte tattiche prima fra tutte il rientro in porta di Menegatti che al ventunesimo ripaga della fiducia concessa il proprio allenatore andando a neutralizzare il calcio di rigore di Frediani e il successivo tap-in di Bambozzi nella prima frazione di gioco però fatta eccezione per il penalty bianco-rosso a prevalere la paura di non perdere e il mech si sblocca solo allo scadere quando Filippini alla prima da titolare mette a centro aria una palla che Zullo è abile ad insaccare con una zampata che vale lo 0-1 la bravura del Fano e la voglia di mantenere la categoria si percepiscono bene nella ripresa con i Granata prima capaci di contenere l'inevitabile reazione anconetana poi letali nell'affondare il colpo al ventiduesimo quando Fioretti si procura e segna il rigore del definitivo 0-2 come detto in precedenza la fiammella della speranza torna a riaccendersi ora per l'Alma che si porta a meno uno dalla zona play-out dove ora ci sono Ancona, Teramo e Lumezzani e a meno 7 dalla salvezza diretta e quando mancano ancora 10 giornate alla fine del campionato sognare è assolutamente lecito e Fano batte Ancona anche nel calcio a 5 femminile grazie al Flaminia che continua la sua corsa al primato in classifica al circolo tennis trave le ragazze allenate da Alessandri Imbriani superano per 4-3 il Real Lions e arrivano alla sosta del campionato seconde ad un punto dalla capolista Rambla Padova che le fanesi si troveranno di fronte venerdì nel primo turno della finale di Coppa Italia nel derby di ieri valido per la diciottesima giornata a prevalere è stato l'orgoglio delle padrone di casa in gol con Falciomi Bonito Giovannelli e Berti non basta invece l'orgoglio in campo maschile all'Alma Juventus che perde per 4-3 in casa contro la Civitella Sicurezza Pro nella sfida valida per il 22esimo turno del campionato nazionale di Serie B i ragazzi allenati da Francesco Ferri subiscono il gol del K.O. allo scadere e ora si ritrovano al quart'ultimo posto in classifica in compagnia dell'altra fanese Leta Beta che nulla può in casa della capolista PSG Potenza Picena vittoriosa con un secco 8-1 Alma e Leta Beta che se finisse ora il campionato sarebbero chiamate ad un derby di spareggio per difendere la categoria devono guardarsi però anche le spalle per evitare la retrocessione diretta attualmente lontana solo un punto e chi ormai da tempo lotta per evitare la retrocessione diretta è anche l'Apav Calcinelli Lucrezia nel campionato femminile di volle di Serie C nella gara del quarto turno della seconda fase serviva una vittoria alle ragazze di Morris Meloni per poter respirare un po' invece è arrivata l'ennesima sconfitta questa volta firmata dall'Edil Monaldi di Amandola che supera le arancionere per 3-0 lasciando le sole al penultimo posto della graduatoria mantiene il primato invece la Virtus Fano in campo maschile nonostante la seconda battuta d'arresto consecutiva il 3-0 subito dai fanesi ad Appignano sorride all'Ancona che agguanta in vetta i ragazzi del tandem Pascucci-Vichi rendendo così ancora più avvincente il big match d'alta quota in programma sabato prossimo e restiamo in tema di pallavolo ma ci spostiamo sulla sabbia per fare i complimenti al fanese Davide Alessandrini che ieri a Marotta ha vinto la seconda tappa del campionato italiano per società di beach volley le cui finali nazionali sono in programma ad Ostia il primo weekend di maggio Alessandrini punta di forza della Kiklos Bellaria ha superato in coppia con l'Anconetano Andrea Storari in semifinale la formazione di San Marino e all'ultimo atto l'Active Beach Volley Bologna e cambiamo decisamente pagina ora per parlare di rugby con il fano che ieri è sceso in campo per la terza giornata dei play-off validi per l'accesso alla Serie B gli uomini dell'allenatore Franco Tonelli erano chiamati al riscatto dopo il pesante 65 a 0 subito alla seconda giornata in casa del Cus Ferrara i rosso-blu come sempre spinti da tantissimo pubblico hanno risposto presente all'appello lanciato dal tecnico e hanno superato per 29 a 12 il San Benedetto portandosi ad un solo punto dal primo posto dove stazionano lo stesso Ferrara Pieve di Cento e Forlì quel Forlì che nel prossimo turno ospiterà proprio i fanesi chiamati ora a fare punti anche fuori dalle mura amiche nella sfida andata in scena ieri al Falcone Borsellino 5 le mete messe a segno dal Fano grazie a Fulvio Golini Giovannelli Gasparini Amadori e Cadeddu e l'appuntamento sportivo di questa sera si chiude con le immagini della festa organizzata ieri in onore dell'Alma Juventus ciclismo Fano che ha festeggiato il quarantesimo anno dalla fondazione al Teatro Masetti Prima e alla cooperativa Tre Ponti Poi in tanti hanno voluto portare il proprio saluto a questa gloriosa società che da 40 anni porta avanti i sani principi dello sport diventando col tempo un punto di riferimento soprattutto per i giovani alla giornata di festeggiamenti che è stata anche occasione per presentare le varie compagini della stagione 2017 hanno presenziato anche il vice sindaco Stefano Marchegiani e gli assessori Cristian Fanesi e Caterina Delbianco padroni di casa in una giornata i cui ospiti d'onore sono stati Tonina e Paolo Pantani genitori del mai dimenticato Marco scomparso tragicamente nel febbraio del 2004 i coniugi Pantani nel loro intervento hanno esortato i tanti giovani ciclisti presenti a fare come Marco ovvero a correre non solo con le gambe ma soprattutto con la testa e con gli auguri alla società ciclistica Alma Juventus Fano si chiude la pagina sportiva di questa sera come sempre vi ricordo l'indirizzo mail al quale poter inviare le vostre segnalazioni che è sport.fano.it per questa sera è tutto da parte mia e la redazione sportiva l'auguri a tutti voi di una buona serata grazie a Matteo Del Vecchio con lo sport si chiude qui il nostro appuntamento con l'informazione vi ricordo il nostro numero telefonico 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni e allora noi ci vediamo domenica a 7.30 con la rassegna stampa Occhio ai giornali in diretta arrivederci a 7.30